Mie, ci conosciamo, perché? Lui, il dirimile di Seviglia, senza pietà. E ora è sulla fila da 80, la sua preferita. Una ruota, wow, il di tacco, 130, 100! Non è mica paglia, eh? I piedi che ha i pattini, li ha fatti lui, eh? Firoletta, i pattini che ti è. Ehi, man! 25 secondi! 25, man! All'indietro, su un piede, greppato, incrociato. 10 secondi, man! Da Parigi, Sebastella Forgh!